10 5 8 4 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 14 15 15 16 16 16 20 l'intorzione 2 apre 30 e in ritarda 3 più 10 più 20 più 20 si tratta 4 l'opera 50 si tratta 2 ai piedi e l'intorzione 2 ai piedi nel ritarda 2 la penne è uscita Lunga, tieni fretta Lunga, tieni fretta Lunga, tieni fretta Lunga, tieni electrofondo Lunga, teni multa Lunga, tieni fretta Lunga, forse dentro a 4 P 가운데, danza Sì, che si detough matано E22 E si piegna E pervenge E finanziar E infatti, avessi e non č l jeunes E giocato E un bel tempo diventa tre Non so come si parte Inzima È inizios Ma In이�ält Sì, guarda poco, ci mostra il tempo dell'autica, cerca 4 piedi, e fino a 2 piedi, e fino a 3 5, e all'asfalto diventa 3 piedi, e all'asfalto diventa 3 piedi, diventa 3 piedi, attenzione a tutti, ritarda dentro 2, apre, 4, per sinistra 2, città, e all'asfalto diventa 3 piedi, 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 100 km a vista sul nostro pieno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti